Cos'è il cost fire? Cost fire si intende quando tu hai raggiunto un patrimonio tale che, proiettato nel futuro con un ritorno atteso pari a x in base alla media storica dell'esposizione del portafoglio che tu hai, raggiungerà il tuo numero magico al momento dell'effettivo pensionamento. Cioè il fire è quando tu oggi hai raggiunto il fire se in questo momento hai abbastanza soldi tali che i frutti che questi generano ti bastano per il resto della vita, cioè se puoi vivere di rendita per il resto della vita. Questo è full fire, ci sono poi sfaccettature, c'è l'infire, fat fire e così via. Il cost fire è quando oggi hai una cifra x tale che quella cifra lì lasciata ad accumulare, investita, crescendo più dell'inflazione, arriverà quando tu hai 65 anni a mandarti in pensione. Sono due concetti qua dentro, uno è che dei soldi investiti e dimenticati crescono più dell'inflazione, quindi in teoria esiste un tempo t nel futuro tale che se adesso metto un euro in un investimento, fra t anni, mi sembra che avevo calcolato che era 370 circa, quell'euro ti manda in fire. Ovviamente se questo tempo t è più in là della tua morte è poco rilevante. Quando il tempo t è tale che arrivi a 65 anni, allora puoi dire oggi ho smesso di accumulare soldi per la mia pensione, quindi posso sputta, posso ballarmi tutta la fresca che guadagno. Quindi il cost fire è il punto in cui puoi smettere di risparmiare e comunque arrivare al pensionamento con una pensione che ti consente di vivere. Un discorso simile è il Flamingo Fai. Ah questo qui, Money Flamingo, è un blog che mi piace tantissimo, purtroppo ha smesso di scrivere, uno dei pochi che ancora seguivo. Il Flamingo Fai era, c'è anche qualche grafico, dove sta? Eccolo qua, questo è il classico percorso fire, corri, lavori, 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 pum, riposo. Questo è il classico, quello che succede, che non succede mai, questo è il Flamingo Fai, quando arrivi a metà del tuo numero magico puoi iniziare a lavorare al 50%, è una versione di cost fire, è simile a cost fire. E c'è anche un calculator, questo stesso blog hanno fatto, dove sta? Tutta la serie, se vuoi, Money Flamingo si chiama, e ci sta cost fire, cost fire explained, anche qui con dei grafici, è tutto fatto molto bene. Col calculator, questo è lo standard del retirement, questo è lo standard con semi retirement, bla bla bla, e via, con calcolatori e tutto quanto, fatto molto 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 bene. Money Flamingo, Flamingo Fai è più figo, che è un po' quello che sto facendo io, cioè giunto al 50% del tuo obiettivo finanziario, io sto sempre al 50%, quello lo lasci crescere finché non diventerà Fai, fire amount un giorno, e intanto rallenti, sfrutti lo spectrum del retirement. Da un anno circa seguo te e coletti per imparare personal finance, ho un foglio di net worth identico al tuo e investo seguendo i ragionamenti imparati dal tuo channel, ok, this is not financial advice. All'inizio avevo l'hype di fare lo spreadsheet, fatto in maniera retroattiva anche, un bloodbath, un bagno di sangue, decidere in cosa investire, eccetera, eccetera. Ora che ho fatto tutto è come se non avessi più niente da fare, next step si chiama The Boring Middle, anche nel mondo fire si chiama The Boring Middle. Che è pericoloso? Investire, cioè non deve essere il cuore, ok, vediamo un po', tu hai scoperto che esiste un mondo, wow, posso vedere quanto spendo, posso tracciare il mio patrimonio, vederlo crescere, investire i soldi bene, bello, che energia, voglio dedicarmi a questo progetto qua. Una volta si è tappato, una volta messo su, poi è una macchina che va da sola. È ok se è noioso, è ok se non devi far nulla di attivo. Delle volte il bias all'attività, cioè il fatto che tu pensi di dover far qualcosa, altrimenti sicuramente le cose andranno male, oppure mi sto perdendo qualche opportunità, lascia fare. Otto volte su dieci le cose si mettono a posto da sé, non devi far nulla, non devi far nulla. Hai un piano, seguilo. Ogni tanto, ogni tanto, fai una review del piano ed eventualmente fai delle modifiche. Fine, va bene così, deve essere noioso. Next step, goditi la vita. Cominci a costruire la vita ideale. Cominci a costruire la vita che vorresti quando i soldi non saranno più un problema. Meno si fa, meglio è. Creazione del portfolio, ribilanciamento, stop. Sì, beh, in realtà il financial planning è più complesso di così. Ci sta che ogni tanto posso cambiare gli obiettivi di vita, devi prendere delle scelte importanti, devi decidere se cambiare città, nazione, potresti dover fare cambiamenti un po' più profondi, o vorresti adattarti ai cicli del mercato in qualche motivo, tipo in questo momento ho un ottimo lavoro, guadagno tanto, ho meno paura che le cose vadano male, sono più entusiasta, quindi sono più aggressivo sul mercato. Un domani sei più cagasotto, potresti essere più conservativo. Ci sta, ci sta. Ci sta a posizionarsi nella frontiera efficiente in un altro punto. Ci sta a scegliere di cambiare punto sulla frontiera efficiente. Però in generale, meno fai, meglio è. Anche perché ogni azione che fai, ogni attività che fai ha un costo. Che sia costo in energie mentali tue, in tempo, o costo finanziario di spostare soldi da una parte all'altra. Costa, ogni volta che fai una transazione, costa. Quindi, bravo. Ottimo, ben fatto. Il mio spreccio è pure un po' troppo complicato, magari. Fattelo più facile. RIP, si arriverà mai a un mondo degli investimenti completamente automatizzato? E se sì, non ci saranno più crisi finanziarie, non essendoci più il fattore umano? Ha fatto un bellissimo articolo su questa tematica, il buon J.L. Collins. Infatti sono tantissimi articoli a riguardo. J.L. Collins, autore di The Simple Path to Wealth, libro meraviglioso, meraviglioso, sul fire, sull'investimento passivo, sul 80-20 and chill. Meraviglioso. Ora, non lo leggiamo perché è un po' lungo. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. C'è un... dove sta? Gli argomenti contro. Sì, è vero che gli indici sono cresciuti, gli investitori attivi sono necessari per settare il valore delle aziende, quindi che qualcuno faccia price discovery, qualcuno reagisca ai dati di bilancio, che le aziende abbiano un market cap in qualche modo connesso al potenziale di crescita o alle entrate, alle revenue, ha senso. E' una cosa buona che esista, quindi sarebbe brutto se tutto diventasse 100% passivo. L'argomento principale è che it's never gonna happen e sono molto d'accordo per i seguenti motivi. Primo la natura umana, è quello che è. La fallacia del se tutti facessero così non c'è. Guarda il tizio di prima, la gente gioca, la gente scommette. People are always going to think they can beat the market. Ci sarà sempre gente che è convinta che batterà il mercato, anzi, in questo momento, sebbene l'investimento passivo sta crescendo sempre di più, sta anche crescendo il retail investing da Robin Hood, da app di trading e così via. Bull market headlines. Se gli indici crescono abbastanza al punto che questo interferisce con stabilire il valore delle aziende quotate, l'opportunità per trarre vantaggio di questa disconnessione darà agli active manager una apertura genuina, una possibilità genuina di overperformare. Se a un certo punto un'azienda fa schifo, ma nessuno la caccia via dall'indice, quindi vale ancora tanto, però a un certo punto un'azienda che fa schifo, che non ha utili, ma vale un trillion, quella non è una cosa sana, non è normale, poi fallirà e qualcuno perderà soldi. Quindi ci sarà un'opportunità però per performare. Questo si chiama Grossman-Stiglitz paradox. Grossman-Stiglitz, tra l'altro ne hanno ovviamente parlato anche Ben Felix e Richard The Plain Bagel, entrambi ospiti sul canale di Mr. Rip. Il paradosso di Grossman-Stiglitz dice che i mercati perfettamente efficienti sono impossibili, perché se i prezzi sono troppo efficienti, allora non c'è nessun profitto e quindi gli active investor vengono spazzati via. Venendo spazzati via active investor, il mercato diventa meno efficiente perché non c'è price discovery e questo crea opportunità per gli active investor per tornare dentro. Quindi questo ci dice che effettivamente i mercati sono efficienti, ma l'asticella dell'efficienza si muove tra 95 e 99%. Se diventano inefficienti si creano opportunità, rinnovano nuovi active investor e il mercato riprende di tornare ad essere efficiente, il che caccia via gli active investor perché c'è meno opportunità di far soldi e così via. Quindi il Grossman-Stiglitz paradox è teoria, non è che c'è una legge, non è una legge, ma è una teoria. Ci dice che i mercati devono in qualche modo restare in questo range di efficienza. Quindi non sono spaventato. Sono spaventato dall'eventuale elasticità, dall'aumento della volatilità dovuta al fatto che c'è meno gente che tradea e quindi a un certo punto le poche trade che accadono possono spostare i mercati con movimenti più ampi. Questo un po' mi spaventa. Questo un po' mi spaventa.